piccole sculture delicate veri capolavori di bellezza ricche di dettagli realizzate con cartoncino e argilla sono le opere dell'artista romano stefano prisco ospitate fino al 15 settembre nelle sale del museo di arte contemporanea del novecento di monsummano terme la personale di stefano prisco meo classico la visione assolutamente personale della grande lezione classica di questo incredibile artista romano intanto una mostra nuova perché completamente fatta di piccole sculture e infatti sono dimensioni all'incirca sui 30 centimetri sono assolutamente meravigliose incantevoli e sono realizzate con materiali particolari sono materiali poveri cartoncino argilla spago tempera certamente si capisce che questo grande artista è assorbito la lezione rinascimentale la lezione barocca la lezione classica ma cala le sue figure nella vita quotidiana nel contemporaneo e poi assolutamente inediti mai visti degli oggetti d'uso quotidiano creati in cartoncino a grandezza naturale funzionanti il trapano le tenaie le forbici funzionano così come il cavatappi quindi straordinario assolutamente mai visto come vedete sono proprio veramente realistici l'accendino creati in cartoncino ogni aspetto della vita quotidiana ispira questo geniale artista romano grazie per la visione